Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi, oggi vi spiego da zero VideoPad Editor Video, come usarlo Allora, innanzitutto iniziamo ad aprire VideoPad Editor Video Ragazzi, questo è un programma semplicissimo, professionale Se volete editare video abbastanza semplici, così per montare un video, delle canzoni Oppure fare una sovrapposizione tipo immagine su un video, oppure scritte su un video e così via Allora, iniziamo prima ad inserire il nostro file mp4.mkv.ad, come volete voi Allora, io adesso prendo un gameplay che ho fatto Tipo un gameplay, diciamo così, su Metro Exodus Una scena piuttosto cinematografica, diciamo così Che io sto camminando in questa tempesta che sembra proprio perfetto Per fare un bellissimo video Allora, come potete vedere La tempesta, il protagonista, la pioggia, il vento, tutta sta roba qua Io con la maschera, il lampo E adesso vorrei fare una cosa Iniziamo prima, non so, a una bella entrata ad effetto Facciamo così Io clicco qua sopra Qui possiamo impostare Aspettate, adesso vi faccio vedere Durata e dissolvenza in entrata Allora, imposta Come potete vedere Visto? Avete notato? Bene Ora, se adesso la voglio un po' prolungare in questo modo La dissolvenza in entrata ci metterà più tempo Ecco Visto? Bene E questa è la Queste qui Queste cose qua sono come dire La base Tanto non vi preoccupate Imparirete presto a usare Videopad Detro video Sono anni che lo uso E posso anche usarlo ad occhi chiusi Tanto è facilissimo Però adesso la videopad Vorrei tanto passare ad un altro programma Che sarebbe Premiere Eccolo qua E anche qui Conosco abbastanza le basi Però Devo Ancora Smanettare un po' E imparare Allora Questa possiamo anche Metterla Ripristinarla come prima Ecco qua Perfetto E adesso Facciamo così Vediamo Un effetto video Allora Allentatore Pure mi piace Allora Dissolvenza in entrata Io che mi guardo intorno E Premo Premo L L Per tagliare Sto ancora camminando Camminando Mi sto guardando Così Vedo i lampi Ok Premo di nuovo L Attenzione Cambia velocità della clip E Posto di 6 Mettiamo 3 Imposta Imposta Andrà più velocemente Adesso vi faccio vedere Visto? Tutte 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 Così Così E adesso Voglio provare di nuovo a cambiare la velocità della clip E mettiamo 9 Imposta Va più lento Ok E' già Perfetto Ok Adesso Cambiamo anche il filtro Dell'immagine Quindi possiamo andare su FX Più Usciranno Questi effetti Quindi Adesso Metto bianco e nero Ok Ricominciamo Visto che Da un colore Passato al bianco e nero Così A caso Possiamo direttamente Premere qua sopra E aggiungere così una transizione Che significa? Io adesso posso mettere qualsiasi transizione La forma Il rettangolo Fa rimbalzare Così così Però in questi casi Quando passiamo da un colore all'altro Io direi Di fare direttamente Una dissolvenza in entrata A destra Ok E guardate cosa esce Non avete notato nulla Guardate un po' come cambia il colore Con una bella dissolvenza Guardate qua Bellissimo Colore E non colore Visto Un capolavoro E proseguiamo Guardo sempre Il tuono Vediamo un attimo Il tuono E ritorna il colore Aspettate un attimo E ritorna il colore Quindi possiamo rimuovere questo effetto Bianco e nero Visto? Tutto sincronizzato Vedo che ammazzo un insetto Continuo a camminare Di nuovo Ora parlando dell'audio L'audio più o meno non si sente E adesso vorrei amplificarlo Quindi che cosa facciamo? Facciamo così Ricominciamo Su FX Quindi un effetto Riguardo all'audio Amplifico Da 100 metto Aspetta adesso Dobbiamo prima sentire Ok Perfetto Ok Lo state sentendo voi? Bene Adesso non lo sento io Perfetto Vai Da 100 121 Facciamo così 121 Ecco qua Questa scena Il fatto dell'audio Possiamo direttamente Cambio a velocità della clip Mantendo No Imposto Così l'audio non segue il video Al rallentatore Così è più bello Oppure è la stessa cosa anche qua Quindi cambia la velocità della clip Mantenere tono audio Qua è tutto buggato Non lo so Che cosa è successo Ok Adesso sto correndo E metto non so Una canzone Una canzoncina Qualsiasi L Così facciamo Un taglio Su apri Mi sto insegnando Le basi Tutte quelle cose Che fanno all'inizio Molte persone Quindi Metto una canzone A caso Tanto non me la ricordo Vediamo questa Queste sono tutte Non copyright Non devo perfetto Andiamo Allora L'audio Lo mettiamo qua sotto Sempre nella timeline Però Su un'altra traccia E adesso Vediamo Possiamo anche abbassare il volume Così per Non stonare nessuno Ok Fino a qua Finisce il video Io adesso posso direttamente Fare così All'entrata L'audio E' uscito Benissimo Noi Invece All'uscita Guardate un po' Come finisce Visto Così finisce Così Così finisce Quindi Mettiamo un Aspettate Dissolvenza In uscita Ok Ecco Così scende Piano piano Fino a finire Quindi Ecco qua Ecco qua Lo stesso vale anche per il video Quindi Dissolvenza Ineso Eccoci qua Poi c'è un suono C'è un suono piuttosto sgradevole Quindi vorrei rimuoverlo Quindi Ecco Cosa sto facendo Adesso Noi vogliamo Scollegare L'audio Dal video Quindi Scollegare Dall'audio Fatto C'è Ce lo dice direttamente Quindi Cancella Continuo Lo stesso vale anche per Spazio Insufficiente Allora Ci penso io Dissolvenza In nero Pure qua Quindi Dissolvenza Anche qua Ok Piano piano La canzone Adesso Cosa significa Se adesso Faccio partire L'ultima parte Esce così Poi esce Un Un frame Un freeze E poi Un rumore Sgradevole Quindi Elimino Tutta sta roba C'è là Perfetto Dissolvenza In nero La Prolungo Un attimo Così Oppure Possiamo fare C'è là qua C'è là qua Ecco qua Dissolvenza In nero Ok Perfetto Adesso È venuto così Abbastanza bene Possiamo dirlo Allora Ok Bene Allora Cosa c'è Da fare Allora Vediamo un po' Qui abbiamo spiegato Gli effetti L'audio Le tracce La timeline Dove inserire Il video E adesso Se Non so Io adesso Vorrei Anche Aprire La cartella E Mettere Questo effetto Con lo schermo Verde Eccolo qua Qui dove Corro Mi raccomando Se fate così Sostituisce Quella Traccia audio Questa qua Se invece La mettiamo Sopra La traccia 2 Come potete vedere L'audio Sta qua Che l'audio Di queste clip È inutile Quindi Io adesso La tolgo Come potete vedere L'ho modificata Io stesso C'era solamente Scritto C'era solamente Lo slash E il logo Di twitch Follow me L'ho scritto Io Facendo L'effetto Macchina Da scrivere E poi L'ho fatto Sparire Visto Ok Quindi Come funziona Io adesso Vado su Effetti Schermo Verde 118 121 È sempre Il numero Che fa Per lo schermo Verde Su videopatto Quindi Ecco qua Lo mettiamo In alto Così E vai Dissolvenza Anche Qua sopra Ecco L Lo tolgo Lo tolgo Meglio Ok Detto questo Ho spiegato L'effetto L'effetto Dello schermo Verde Le transizioni L'audio Come amplificarlo Come tagliare La clip Come modificare Il filtro Del video E adesso Queste sono le basi Poi più avanti Ti spiegherò Altre cose Quindi Io adesso Esporto Il video File video Scelgo la cartella Metto Desktop Salva Il titolo Lo cambierete Una volta Esportato Esportato Riempimento Sfocatura Questa è la nuova Versione Giusto Stendy Che è meglio Costante 60fps Ragazzi Qui mi raccomando Fate attenzione Che sfrutterà Molta Della cpu Quindi Il processore Lo sfrutterà Parecchio E Crea A me ha quasi fatto Perché ho un buono Processore Della EMT Ecco qua Chiudi Eccolo qua Ecco qua Che aveva la parte Che io inizio a correre E finisce qua Quindi ragazzi Grazie a tutti Per questa visione Se avete bisogno Di un altro Piccolo aiuto Come Usare Videopart Per un video Perché io ho spiegato Le basse Quindi Da zero Per quelle che Aprono la prima volta Videopart Ci smanettano un po' Su e dicono Aspetta Ma io voglio Mettere Un filtro Voglio mettere Un effetto Voglio mettere Lo schermo Averto Fate quello che volete Però Mi raccomando Esercitatevi Quindi grazie a tutti Per questa visione Lasciate like Se vi è piaciuto Il video Se vi è stato Utilissimo E noi Ci vediamo Ad un prossimo video Quindi Ciao